Allora, buonasera e auguri a tutti qui a Cascia per questa serata bellissima. Noi siamo di Terzone, allevatori, anche noi partecipiamo così nel folcore eccetera. Adesso abbiamo qui quest'amico Alessio Runci, un poeta a braccio dell'ottava rima. Adesso ci farà un'ottava, va bene? Vai! Questa terra tanto devastata rafforza un gemellaggio di amicizia. E' stata proprio bella la giornata, da quando il sole e il nuovo giorno inizia. Spero che venga meglio confermata, per l'anno futuro sia ancora propizia. Vedere tanta gente e tanti amici rafforza l'entusiasmo e le radici. Grazie. Bravo, bravo. Grazie a voi, grazie.